Bellissima rassegna e idea del direttore artistico del Trianon, che è Marisa, che è una donna vulcanica, che ha avuto questa meravigliosa idea di chiamare sette artisti con dei meravigliosi, come dire, big, che ci presentano. In questo caso a presentarmi è Eugenio Pennato, che ringrazio pubblicamente perché ha detto delle cose meravigliose su di me e sulla musica, sulla mia musica, e si è inventata questa cosa di accompagnare poi ogni concerto con le immagini di arte contemporanea di artisti di un certo spessore nazionali e ad accompagnare il mio concerto sarà Enrico Banetti. Che dire, Marisa ha voluto fortemente questa rassegna e il titolo è bellissimo, Suoni contro muri, perché vogliamo che la musica non si fermi mai, nonostante sia stato terribile fare un concerto senza pubblico, senza neanche le sedie in teatro. Sai, per un artista, per i musicisti, per le maestranze non è la stessa cosa. Oggi noi siamo circondati da muri e forse questi muri possono essere utili, però bisogna decisamente evitare di rassegnarsi ai muri, perché i muri sono pericolosi, perché ci inducono a rinunciare alle passeggiate libere. Quindi Suoni contro muri, la musica è quella che si oppone e soprattutto porta la bandiera appunto della creatività, della follia e della libertà. Quindi ho aderito a questa iniziativa della effervescente Marisa, che ho ritrovato a dirigere il Teatro Strianon. Mi ha chiesto di sponsorizzare in qualche modo questi artisti emergenti e l'ho fatto.